c'è una sostituzione alla sua trasmissione telesabbato che si è diventata molto famosa la trasmissione più seguita a roma sì che c'è un certo sabatino cillo che un è un ascoltatore e un telespettatore conosco cillo sì che condivide questo video e ha detto che una delle trasmissioni lunedì più seguite a roma ed intorni telesabbato si pure a sora a frosinone questi posti qua ho sentito quindi sta avendo sta avendo molto successo telesabbato questa cosa mandiamo un saluto a tutti i romani un saluto a tutti i romani non ai tifosi della roma ma a tutti i romani non tifosi della roma pensiero sul